Amici malati di Spezia, non era semplice ma a forza di provarci, provarci e riprovarci, ce l'abbiamo fatta. Guardate l'immagine, Spezia ultimo in classifica, non era semplice ma con questa brillante gestione da quella proprietaria a quella societaria e a quella tecnica finalmente siamo arrivati ad essere ultimi in classifica. Un ringraziamento speciale a chi ha permesso tutto questo, a chi sta continuando a distruggere la realtà Spezia, svuotare la realtà Spezia, l'anima è già stata prosciugata, la voglia ce la stanno facendo passare e non è veramente semplice. A breve poi ringrazieremo tutti coloro che stanno rendendo possibile tutto questo, ma nel frattempo parliamo un minuto della partita perché lo Spezia oggi ha giocato e perso e questa non è una novità contro la Cremonese. Cremonese, formazione sicuramente da playoff, molto qualitativa, è una squadra forte, nulla da dire, primo tempo dello Spezia che ha praticamente contratto, che deve cambiare e passare a un 3-4-2-1 perché sì, siamo al 20 gennaio e oggi avevamo disponibili un solo terzino, ma anche qui arriveremo poi a tutti i discorsi e le parole che si sono fatte, ma ci arriveremo dopo. Mister che deve passare alla difesa 3, proprio perché non ha disponibilità di terzini per giocare a 4, quindi cambia il modulo, Spezia primo tempo molto contratto, molto contratto Spezia che ha rinunciato completamente a giocare, a Coma aveva provato a giocare, abbiamo visto poi com'è finita, oggi il mister l'ha approcciata diversamente, un baricentro più basso, lanci lunghi e il primo tempo si è concluso e si è chiuso con il risultato di parità. Nel secondo tempo lo Spezia parte meglio, lo Spezia gioca un pochino di più, occasione di kouda clamorosa, un gol a porta vuota sbagliato enormemente, dall'altra parte poi da qui appunto non segni, dall'altra parte poi Esposito, pensa brillantemente di fare un grande assist, un grande assist non era assolutamente facile, mettere quel pallone girato con il corpo spalla alla porta, mettere quel pallone a coda e coda stranamente. Un attaccante che si sa non vede la porta, un attaccante così finito e bollito, la butta dentro e la Cremonese si prende 3 punti. Il mister poi passa alle sostituzioni, l'unica cosa che imputa al mister oggi è aver lasciato in campo Esposito, ennesima prestazione inguardabile e secondo me nello Spezia, in questo Spezia che si deve salvare, un giocatore con quelle caratteristiche non c'entra assolutamente nulla. Assist per il gol appunto di coda, poi il mister butta dentro tutto il potenziale che ha, esclusioni di Antonucci molto pesanti, quello di Moro molto pesanti, di Amian per altre questioni, il mister prima della partita nella conferenza stampa ha detto voglio solo giocatori che abbiano testa e cuore nello Spezia, esclusione quindi assolutamente da non sottovalutare. Il mister butta dentro Crollis, butta dentro Cipot, butta dentro Candelari, butta dentro il nuovo arrivo di Aghiello, dal Genoa, che comunque si è disimpegnato sicuramente meglio del poc'anzi citato Esposito, e butta dentro poi chiaramente anche Mule, probabilmente qualche problema per Gelasvili, negli ultimi minuti mette anche Ristov, c'entra avanti, fatto sta che lo Spezia non riesce più a produrre nulla, la sterilità offensiva allucinante, se prendi gol sai già che la partita molto probabilmente sarà persa, dove si vuole andare? Certamente non a salvarsi in queste condizioni. Ma adesso arriviamo alla seconda parte del video. Nell'incontro del 5 gennaio scorso, la seconda contestazione al Perdeghini, nei primissimi giorni di mercato da parte dei tifosi alla società, Gazzoli, in quella data, ripeto, 5 gennaio 2024, il sunto di quella conversazione fu state tranquilli, lasciateci lavorare, siamo al 5 gennaio, non al 20, capirei le vostre dimostranze al 20, ma siamo al 5 gennaio. Ecco, oggi è il 20 gennaio, oggi è arrivato il giorno 20 gennaio, è approdato il solo Vignali, ed è approdato un paio di giorni fa, abbiamo detto, Gliagliello dal Genoa, sicuramente giocatore importante per la categoria, prestito ovviamente secco, ma quello poco importa, e anche il mister ha detto, non mi interessa la formula del trasferimento, l'importante è che arrivino i giocatori per alzare il livello della squadra. e ci siamo presentati oggi con un solo terzino, un solo esterno basso, chiamatelo come volete, disponibile, il solo Vignali, Cassata, Cassata, centrocampista, centrale, che è dovuto essere dirottato sulla sinistra, a fare l'esterno sinistro a tutta fascia, siamo sempre senza punta, e ditemi voi se questo è lavorare con serietà, se questo è lavorare con progettazione, se questo è lavorare facendo calcio serio. Nel calcio serio a cui faccio riferimento io, che poi è la visione di tanti, di molti addetti e lavori, per ogni ruolo devi avere un paio di giocatori disponibili, due terzini sinistri, due terzini destri e quant'altro, noi praticamente ne avevamo disponibili, uno con Rezza ai box per i motivi che tutti sappiamo, Amian praticamente è quasi fuori rosa, perché evidentemente è in procinto di partire, ebbene è così, perché ripeto, i giocatori che non hanno più nulla da dire per lo spezio, è giusto che vadano via, fatto sta che ripeto, questo non è fare calcio seriamente, il silenzio della proprietà non è fare calcio seriamente, quello che viene detto dai dirigenti, che spesso è aria fritta, non è fare calcio seriamente, la squadra che va in campo non è fare calcio seriamente, perché oggi dal mio punto di vista, dal punto di vista agonistico, c'è stato qualcosina in più, lo spezia poi anche nell'ultima mezz'ora, fino a quando poi non c'è stato anche il crollo fisico, ha provato a metterla un pochino sui nervi con quello che aveva, quello che aveva non è sufficiente, metterla sui nervi non è sufficiente, perché i limiti ci sono e sono tanti, e ripeto, noi a oggi, a oggi con alcune partite che devono ancora giocarsi, vedi Lecco, vedi Cosenza, vedi altre squadre con la vittoria della Ternana, con la vittoria della Feralpi, siamo ultimi in classifica, e tolta la giornata di oggi, mancano 17 partite, alla fine del girone di ritorno, e capite bene che se la soglia della salvezza sarà intorno ai 40-41-42 punti, con 51 punti a disposizione, vuol dire che lo spezia dovrà macinare da qui a fine campionato, all'incirca la media di 2 punti, in classifica la situazione assolutamente disperata, ultima settimana di mercato, ci sarà poi l'importantissima sfida contro il Pisa, e qui vediamo se arriverà qualche giocatore, di certo, se volete sapere la mia, la società e la proprietà non ha fatto nulla, 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 per cercare di migliorare in maniera seria, in maniera professionale, la rosa dello spezia, i limiti ci sono e ci saranno anche dopo, vedremo se arriverà appunto qualche altro giocatore, fatto sta, che dal mio punto di vista, la situazione è assolutamente disperata, e personalmente, se volete sapere la mia, mi sono anche stufato di dover ogni partita, essere qui a farmi del sangue marcio, con una proprietà che potrebbe, ma non fa. A forza di giocare d'azzardo, ci siamo ufficialmente bruciati, questa area tecnica ci ha portato all'ultimo posto in classifica, in serie B, ora come ora, e tirate voi le conclusioni, le parole dal mio punto di vista sono finite, i discorsi, le frasi fatte, tenetevele per voi, se parlate metteteci la faccia, dite le cose come stanno, e noi, come spezia, saremo pronti anche a ripartire, dove si rischia di finire, ma trasparenza, e chiarezza devono essere alla base di tutto, perché alla base di tutto ci vuole rispetto. Fatemi sapere ovviamente la vostra qui sotto nei commenti, e niente, in fondo l'abbiamo toccato, ora non rimane altro che scavare, o si scava, o ci si rimbocano le maniche, e si prova a venire fuori da questa situazione, certo è che se non arriveranno dei rinforzi credibili, dei rinforzi credibili dal mercato, probabilmente rischiamo di finire nuovamente all'inferno, con una situazione poi che sarà tutta da decifrare. Ciao amici malatevi spezza. Va così, teniamo duro. Ciao. Ciao.